Kruskos, il primo franchising di street food e doc food tutto lucano, apre a potenza. A pranzo e cena scegli il tuo panino gourmet o la tua frittura. Assapora vini e birre artigianali. Naviga con la wifi gratuita, socializza e ascolta buona musica live. Kruskos è la piazza del gusto, dell'intrattenimento e dell'aggregazione. Kruskos è a potenza in piazza della Costituzione 38. Kruskos è la piazza della Costituzione 38.